Sì, questo è come la mia cucina, stai in persona. Siccome mi va a poter prendere con quelli piccoli, non è che sono più piccoli. Grazie. Allora, il nome del padre, il figlio dello spirito santo, padre nostro che temi i cieli, che è santificato il tuo nome, venga il tuo regno e si è fatta la sua volontà, cominciamo così in terra. Grazie oggi il nostro pane quotidiano, e riempie a noi i nostri debiti, con onore riempie a noi siamo i nostri debitori, e non ci dure in tentazione, ma riempie a la città di male, amore. Affidiamo questa giornata anche alla Madonna e a San Giuseppe. Avevo Maria, piena di arte, Signore al mondo, su seme e l'Esta, che benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e facciamo gli auguri a chi porta il nome di Salvatore, in questa giornata viviamo la fede, anche nella peritenza di questo caldo, offriamo questo sacrificio per il bene delle nostre famiglie, e il bene del nostro paese. E possiamo portare. Allora, Grazie. 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 Mi raccomando a tutti quando si arriva, sentite, non so se mi sentite, mi raccomando a tutti quando partiamo dalla cona, l'eleganza, il rispetto e soprattutto l'ordine, l'ordine come abbiamo fatto sabato sera anche alla processione eucaristica, l'eleganza, l'ordine il rispetto di tutto, perché vi ripeto sono delle cose importanti che danno un'immagine del Paese, quindi noi se diciamo che vogliamo venire Gesù Salvatore e Gesù Salvatore è l'immagine più bella che abbiamo del Paese, dobbiamo cercare di essere come sempre del resto, però con un'attenzione in più, anche perché le cose stanno cambiando e non vado oltre, ne lo so, però noi dobbiamo ubbidire alla Chiesa. Signore Gesù Cristo, Tu ci hai insegnato ad essere misericordiosi come il Padre Celeste e ci hai detto che chi vede Te vede Lui, mostraci il Tuo volto e saremo salvi, il Tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro, la dulce nella maddalena dal porre la felicità sotto solo in una creatura, fece piangere Pietro dopo il tradimento e assicurò il paradiso al ladrone pentito, fa che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che diceste alla Samaritana, se Tu conoscessi il dono di Dio, Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, è il Dio che manifesta la Sua omnipotenza con il perdono e la misericordia, fa che la Tua Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, Suo Signore risorto e nella gloria. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Glorie al Padre, al Figlio e allo Santo. L'eterno riposo, dono loro Signore, splettare la luce perfetta, riposo in pace, amore. Bene, possiamo ripartire, possiamo ripartire con calma e salire, la grande salita della barriera e ci ricorda la salita al salvario di Gesù. Grazie a tutti. 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 a tutti.